Nuove chiusure notturne in programma sull'autostrada A9 per consentire lavori di pulizia del manto stradale, della segnaletica verticale e dei bypass. Dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Lo svincolo di Como Centro sarà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, verso Chiasso e in direzione di Lainate. Gli automobilisti, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro dovranno seguire le indicazioni sulla strada provinciale 17, percorrere via Ale Sanfermo della Battaglia e via Bellinzona fino a raggiungere la Dogana cittadina per un totale di circa 8 chilometri. I mezzi pesanti invece, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, dovranno percorrere via Cecilio, via Pasquale Paoli, via Napoleone e via Innocenzo XI fino a raggiungere la Dogana. Nuove modifiche alla viabilità in programma nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto, quando dalle 22 alle 5 sarà chiuso il tratto compreso tra l'ago di Como e l'allacciamento con la tangenziale di Como verso Lainate.